Un'appendice dedicata al cinema dove le locandine di otto tra i più bei film girati in Puglia diventano le speciali etichette di altrettanti vini pugliesi. È l'omaggio di Doriana Cisonno e Rossana Zonno, curatrici del volume Puglia a punti di viaggio, al Bifest 2011. Frutto del progetto Ciacca Punti di Vino, promosso dall'assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, l'edizione speciale della guida Puglia a punti di viaggio è stata presentata al Donna Flor di Bari dal giornalista Michele Marolla, caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno. Il volume si apre con l'inedito racconto di Felice Laudadio, direttore artistico del Bifest, dei viaggi che faceva da bambino da Mola di Bari a Torchiarolo a bordo della giardinetta Fiat di papà. Cuore della guida, otto speciali itinerari di viaggio che percorrono la Puglia dal Salento al Gargano, scritti da un pugliese d'adozione, Marco Brando, caporedattore di City, e da una pugliese doc, Antonella Gaeta, giornalista di Repubblica Bari e sceneggiatrice. Per i non pugliesi la Puglia è il mare, io ci vengo da tanti anni, ci sono stato anche prima di venire a vivere qui e mi piace molto, però diciamo che il paesaggio della Murge è quello più originale rispetto anche ad altri paesaggi italiani, è unico e ti permette di conoscere quel tessuto della Puglia come era probabilmente una volta. La Valle d'Itria, perché è veramente il luogo dove amo di più rifugiarmi, è un luogo dello spirito, come ho scritto peraltro nel mio itinerario, c'è una specie di Aleph di incontro, di energie in quella terra specialissima, aiuta a scrivere, a pensare, a pulire la vista, lo sguardo, a pulire la testa e a ricominciare.